Una o due giorni di confronto tra 23 regioni europee per capire come lo spazio, quello siderale, non sia poi così lontano da noi. Sia nel senso che la tecnologia ce lo rende più conosciuto, sia perché tutte le attività connesse all'aerospazio incidono sempre più sull'industria meccanica moderna. E proprio a Bari, in Puglia, dove il distretto aerospaziale sta registrando numeri record, si tiene in questi giorni Space4U, una conferenza internazionale che vede la Puglia pronta a entrare in orbita. 300 ospiti accreditati, 65 relatori internazionali che vengono qui in Puglia per esaminare il successo di questo distretto e rilanciarlo. La presenza qui di oggi è significativa non solo per la qualità di chi interviene, ma anche per i temi trattati. Space4U, cioè lo spazio per te, come può migliorare la qualità della vita dei cittadini, come può intervenire a sostegno delle imprese per migliorare la qualità dei loro prodotti. Allora significa che l'innovazione è fondamentale per il successo delle imprese, ma per creare nuova occupazione soprattutto. Un'opportunità non solo per le grandi aziende, ma anche per tutte le PMI dell'indotto pugliese. La nostra azione di politica industriale è stata quella di investire su tre pilastri, ricerca, innovazione e internazionalizzazione. Siamo convinti che dello spazio non si debba occupare soltanto la grande impresa, ma le piccole e micro imprese specializzatissime che possono fornire prodotti di nicchia, prodotti di qualità, competitivi su tutto il mercato internazionale. Questo risultato lo stiamo vedendo. Il distretto dell'aerospazio è quello che esporta di più ed è quello che più è noto in ambito internazionale. Grazie.